Ciao Nick. Ti do 5 minuti di tempo per mandare via i tuoi ospiti. E questo è un deciso. Nick! 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 Nick non ti arrabbiare! No Nick non ti arrabbiare, è stato mio cugino! Mi cugino è stato nel locale Tendenza, ho bevuto, ho fumato, oddio mamma questa non si aveva guardato. Francì, ma che fai la notte? Vai a cacci il balena! Ma te vuoi stare zitta e te ne vedi a mano! Ciao Moby! Ma hai educato! Amore! Buonasera!